Che non si può stare tranquilli, questo sicuramente perché senza voler fare allarmismo e con la speranza che le nostre forze dell'ordine facciano il loro dovere, riescano a catturarlo, tutta la storia di questo signore è una storia particolare ed è una storia che avrebbe portato al fatto che questo signore doveva essere accompagnato fuori dai confini italiani. Ma la verità è che non si accompagna, gli si dà un foglio di via e poi questi girano, spariscono. Il problema grosso è questo, allora se io do a una persona così un foglio di via e gli dico guarda che devi andare fuori dall'Italia, secondo voi va fuori dall'Italia uno così? Sì, la mia considerazione è che forse i fogli di via possono servire in un'Italia immaginaria, ecco in un mondo immaginario, oggi come oggi bisogna prenderli e portarli fuori, con la consapevolezza secondo me che domani sono dentro ancora. Quindi la mia paura è che poco serva. Perché siamo un colaprodo. Beh, lo siamo sempre stati.